Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, qui per fare un attimo il punto della situazione che non è bella. Passato l'entusiasmo iniziale, ieri abbiamo assistito appunto a questa temporanea restituzione dei 15 punti e oggi già si moltiplica naturalmente le varie ipotesi su quello che potrà accadere. Le ipotesi sono tante, però di certo abbiamo la condanna dell'apicale, del vertice, dell'Ariventus, Agnelli, Paratici e Cherubini. Qualcuno mormora che Cherubini non possa più rimanere alla Juventus dopo questa condanna, ma si parla anche di chi ne è che sembra voglia rassegnare le proprie dimissioni. Ora che cosa accadrà a bocce piuttosto ferme? Beh, siamo di fronte a un'ipotesi piuttosto chiara, nel senso che i punti sono stati tolti e poi riassegnati, ma in maniera del tutto provvisoria. 15 punti che vedranno poi una ridiscussione dopo la sentenza di ieri, in seno, in questo caso al secondo grado, alla Corte d'Appello federale della FIGC, che comunque si ripronuncerà per carenza di motivazione. Però attenzione, bisogna aspettare comunque le motivazioni che hanno nel giro di un mese arriveranno e forse anche prima potremo vederci più chiaro. Quindi, in seno al collegio giudicante che sarà riformato, non saranno più i vecchi componenti, bensì nuovi, c'è chiaramente una ridiscussione sulla sanzione che deve essere afflittiva. Ricordiamoci, afflittiva vuol dire che è immediatamente operativa. C'è qualcuno che parla di un massimo di 7 punti, c'è chi si riferisce a un range dai 7 ai 10 punti, ma una cosa è certa, potrebbe intanto verificarsi un waltzer delle cosiddette impugnazioni, per cui la Juventus non ci sta nuovamente e arriva al collegio di garanzia del CONI e non è da escludere. Un'altra cosa certa è, la prima è un'ipotesi, la seconda è che la Juventus ne uscirà comunque pesantemente danneggiata. rinvii, dilazioni, ricorsi, patteggiamenti, credo forse che potrà evitare la Serie B, ma credo anche qui che non si andrà in Coppa. C'è stato soprattutto qualche segnale di non belligeranza da parte della Federazione, che ricordiamo non si è costituita in seno al CONI e forse la cosa più logica potrebbe essere per il filone stipendi e le partnership un patteggiamento. Non in questo caso, perché questa è una questione che va avanti e parliamo della questione delle prosvalenze, ormai avrà un suo corso, ma dall'altro punto di vista un segnale da parte della FIGC c'è stato e da parte della Juventus potrebbe essere presa in considerazione questa ipotesi. che fare? Non necessariamente patteggiare vuol dire essere colpevoli, vuol dire banalmente fare un calcolo opportunistico e chiudere la questione con i miglior danni possibili. C'è qualcuno giustamente che dice che si dovrebbe andare al TAR, questo lo capisco, anch'io sono più o meno di questa idea, ma questo comporterebbe davvero una scelta politica estremamente pesante. È stato poi anche messo in evidenza, giustamente, che alla fine è il sistema che è proprio fallato ed è un grave caos. Quale imprenditore italiano, leggevo e do ragione a un avvocato oggi sul web, si sentirebbe di investire in un sistema così caotico? E qui, attenzione, ai posteri, larga sentenza. Ci vediamo presto.